Ciao a tutti, noi siamo all'associazione 15 febbraio, saremo a Milano al Teatro I 7, 8, 9 giugno con uno spettacolo che si chiama Fratelli, scritto da Valentina e interpretato uno degli attori qui con noi, Andrea Collavino, Beatrice Schiros. Abbiamo debuttato a dicembre dello scorso anno qua a Torino, lo spettacolo è andato molto bene, è piaciuto a Teatro I, a Renzo Martinelli e Federica Fracassi, per cui siamo in stagione 7, 8, 9 giugno. Dobbiamo sostenere, come voi potete immaginare, le spese per stare quei giorni a Milano e quindi noi siamo qui per chiedervi un contributo per mangiare, per dare a mangiare agli attori, ad Andrea, a Beatrice, al tecnico, magari riuscire a fare due rocandine che non siano proprio fatte a mano. E quindi stiamo facendo una raccolta alimentare. Cos'hai preso, Vale, tu? Io ho comprato struzzo, questo è proprio unicamente un alimento monoproteico, struzzo, molto prelibato. E per cani questo? Sì, ma l'importante è il contenuto, cioè il contenuto nutritivo, perché per esempio c'è un patè di campagna con carni fresche al 90% senza OGM. Sì, ma non è carino dare agli attori e mangiare per cani, proprio per cani. Abbiamo il rustico che praticamente Anna pratica. A te va bene lo struzzo? C'è questo Andrea? Sì, va bene, preferisci lo struzzo. Dargli lo struzzo perché è una carne rosata. Non dargliene troppa però, perché poi se no... Ecco. Ma con due... Praticamente si tratterebbe... Diciamo agli attori e alle maestranze almeno due o tre scatolette al giorno. La scatoletta quanto costa? È 2,20 euro. Quindi sono 2,20 euro per 3. Senti, ti metto anche un po' di saporitore della Liebig. Secondo me fa... Sono 6,60 euro a destra. No, 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 non giusto. Quindi... Piscale ti dà un po' più di gusto. 6, 12, 18... Quanto fa? Quanto chiediamo? Diciamo 25 euro al giorno, una cosa del genere? No, di più. Di più? Di più. Vabbè, ma poi per l'offerta è andata a vedere, insomma, ci sono anche delle ricompense. Comunque sono prodotti sani, ecco. Noi c'è quello che ci preme e soprattutto quello di fornire, diciamo, degli alimenti gustosi e prebibati. E sani. Vabbè. Tu ha sani. Ma hai fame? No. E allora, se non hai fame risparmiamo. Mettiamolo subito dentro. Facciamo per la cena. Allora, vabbè. Cioè, a me pazienza. Non mettiamo niente.